eccoci qui un saluto come state ben ritrovati un abbraccio a tutti da milanello e anche dal subuteo di marco van bassen che veglia giudica e speriamo porti fortuna per il prossimo anno ne abbiamo bisogno vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto con il vostro punto di vista di lasciare un like alla nostra community siamo fantastici siete siamo fantastici siamo una grande famiglia rossonera e se avete ancora fatto iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi se siete rossoneri iscrivetevi chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano e quindi vediamo quanti milanisti ci seguono e quanti non milanisti ci seguono che sono invitati ad andare sul loro canale se sei un milanista iscriviti ovviamente è gratuito colgo l'occasione anche per consigliarvi di scaricare gratuitamente l'app di uno football che è sponsor del milan oltre che della serie a vi metto il link qui sotto nella descrizione basta cliccare andare e tornare ci mettete 30 secondi è un'app che dovete avere perché è la numero uno con tutte le notizie esclusive live calcio mercato gli highlights da vedere è gratuita quindi ripeto ne vale la pena scaricatela qui sotto c'è il link ed è sponsor anche del milan quindi sosteniamo chi ci sostiene ieri tra l'altro nel video in cui vi raccontavo dell'anticipazione di quella che potrebbe essere la terza maglia la sensazione davvero che potrebbe dovrebbe essere lilla attenzione molto intrigante a livello di di colore poi sicuramente c'è chi dirà è bruttissima chi dirà è curiosa me incuriosisce come terza maglia perché sappiamo che la terza maglia ormai non ha più i colori classici di rappresentanza e dobbiamo abituarci insomma a questo ci sono un paio di indiscrezioni clamorose attenzione 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 in particolare una che mi dà iniziamo subito con il dire che per quanto riguarda reinders giocatore della z alkmar con cui abbiamo già trovato l'accordo è sicuramente un nome caldo risulta innanzitutto che ci sia davvero grande gradimento da parte di pioli secondo qualcuno sarebbe stato addirittura pioli a forzare su questa operazione che il minan sta provando a chiudere 25 anni li farà a fine mese olandese altun 85 giocatore che è esploso nell'ultimo anno su quale ho preso delle informazioni direttamente dall'olanda qualche collega giocatore che è esploso quest'anno davvero quest'anno ha avuto una crescita incredibile il la z ha un'offerta anche della premier league lui però in questo momento è molto attratto dal minan con cui ha già un accordo e viene scritto come anche lui però un bravo ragazzo un po la decetelare ecco speriamo che non ci sia questo aspetto di di difficoltà di adattamento proprio per un carattere molto introverso che sicuramente ha decetelare che renders magari ecco in parte potrebbe avere da quello che mi è arrivato ma non credo che sia così tanto come decetelare attenzione però perché oltre a Southampton nelle ultime ore da registrare per renders un sondaggio del West Ham e quando c'è un club di premier league bisogna sempre stare molto attenti perché hanno un potere economico decisamente superiore rispetto al nostro e quindi li vedi un po il giocatore che cosa vuole fare se andare per un club di media bassa classifica di premier per questi oppure sposare il progetto andare in italia dove magari c'è qualche soldo in meno ma c'è la maglia prestigiosa del milan che ha un percorso un progetto che può valorizzare certi giocatori al momento lui ha un accordo con il milan quindi la sensazione che stia aspettando l'accordo tra milan e il suo club però attenzione perché con il West Ham e club della premier sappiamo che bisogna sempre stare molto molto attenti ripeto giocatore che esplose in ultima stagione quando aveva 24 anni poi sto pensando quale vedo per prima vedo per prima c'è un nome nuovo molto 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 interessante e c'è una novità in uscita per un nostro big che sarebbe clamorosa volevo però aggiornarmi anche sul discorso Pulisic perché anche lui qualcuno dal milan la scorsa settimana mi ha detto guarda abbiamo chiuso Loftus Cic e pure Pulisic in realtà Pulisic non è stato ancora chiuso però loro ritengono di chiuderlo perché hanno già un'intesa completa con un entusiasta Pulisic sul quale c'è l'inconite dei problemi fisici ma attenzione una curiosità in più ricorderete un mesetto fa ne avevamo parlato perché Giroud aveva detto mi piacerebbe un grande c'è grande intesa tra di noi anche un personaggio molto simpatico nello spogliatoio effettivamente aveva detto ci conoscevamo a memoria ci capivamo a memoria mi sono rivisto qualche gol di Giroud con delle belle imbeccate di Pulisic e ecco si potrebbe sfruttare questa intesa ritrovata magari appunto al milan guardate su youtube c'è qualche video con i due con l'assist di Pulisic per il grande Olivier Giroud al quale mando un grande saluto grandissimo rosso nero poi c'è una discrezione ripeto poi discrezioni clamorose una che riguarda l'uscita e una che riguarda l'entrata partiamo 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 da facciamo prima il discorso uscita dai il discorso uscita con il milan che ragazzi sta mettendo tanto diversi oggi non sono più giocatori del milan perché il primo giorno senza bakayoko senza tatarusano senza des senza vranx senza ibra e mi dimentico sicuramente qualcuno ovviamente ebraim tonali ebbene dicevamo bisogna anche cedere molto attenzione perché c'è una novità clamorosa che riguarda char de ketelare nostro giocatore che un anno fa non vedevo l'ora di vedere vestire i colori rossoneri del milan di togliere quelli brutti nerazzurri del bruges giocatore che però ha fatto per un assist ha fatto obiettivamente molto male sul quale ci siamo ricreduti un po tutti e che pioli ha cercato di valorizzare concedendo gli 1500 minuti circa di gioco perché era stato pagato tanto altrimenti se fosse stato pagato il prezzo di adli avrebbe visto il campo molto meno ora non c'è più al milan chi lo ha voluto fortemente come ha detto anche il suo agente una settimana fa lo ha voluto molto maldini era un suo grande fan adesso però comunque c'è moncada che aveva contribuito a portarlo al milan diciamo che manca però il vero sponsor di de ketelare e soprattutto pioli che ci ha lavorato per un anno intero ha comunicato la nuova dirigenza che per lui sarebbe meglio farlo partire perché difficilmente riuscirebbe a lanciarlo il prossimo anno è chiaro che però come sapete a bilancio perché siamo diventati un po tutti commercialisti da qualche anno abbiamo la calcolatrice alla mano purtroppo a bilancio lui ha 28 milioni di euro quindi è quasi impossibile che arrivi in offerta di quella cifra e soprattutto dopo una stagione così soprattutto poi dopo anche un europeo under 21 andato obiettivamente male con il belgio subito eliminato e lui che a parte un paio di colpi insomma non ha non ha fatto una grande competizione quella poteva essere l'occasione occasione purtroppo non sfruttata ebbene de ketelare a questo punto il milan lo vuole far partire con la formula del prestito prestito con nell'idea del milan obbligo di riscatto in seconda misura obbligo determinate condizioni in terza misura se non si riesce in prestito con diritto di riscatto attenzione poi veniamo al nome nuovo suggestivo molto intrigante in entrata attenzione perché c'è l'atalanta c'è l'atalanta su de ketelare l'atalanta era il primo club italiano che si era mosso sul belga un paio d'anni fa senza poi riuscire a prenderlo perché appunto è andato al milan prima ancora dell'interesse del milan c'era stato l'interesse della dirigenza dei bergamaschi che continuano a essere stimatori di de ketelare e vorrebbero portarselo a bergamo per provare a lanciarlo perché ritengono che sia un giocatore valido un giocatore forte sapete che l'atalanta insomma hanno una dirigenza molto brava in termini di calcio mercato soprattutto a scoprire giocatori a puntare su determinati giocatori ebbene per quanto riguarda questa pista l'atalanta però lo vuole in prestito con diritto di riscatto si può aprire una trattativa con il milan che magari chiederà un prestito con diritto che diventa obbligo di fronte al tot numero di presenze però per il milan è importante cederlo a un club che lo può acquisire l'atalanta se lui fa bene potenzialmente tra un anno potrebbe sborsare 20 milioni di euro prezzo per cui sarà bilancio nell'anno successivo dopo l'ammortamento di un'altra stagione è chiaro che poi il milan potrebbe anche ragionare su qualche giocatore dell'atalanta ma al momento non ci sono grandi obiettivi beh ragazzi oilund sarebbe fantastico oilund sarebbe fantastico però ripeto al momento notizie in questo senso non ce ne sono c'era stato qualche mezzo rumor anche su lukuman qualche mese fa però ecco mi sembra no dai magari magari oilund però oilund lo valutano 50 quindi il milan in questa sessione non vuole fare spese per un singolo giocatore così elevato magari detto questo restiamo più con i piedi per terra se hai prestito con diritto tu comunque fai partire un giocatore risparmi l'ingaggio e speri che una squadra che è brava a valorizzare i giocatori possa lanciarlo e magari comprartelo con il rischio che poi se fa bene e te lo comprano ti mangi le mani però è un rischio che in questo momento il milan può o forse deve anche correre De Chetelare secondo me al milan non è che l'estate bella vado sotto l'ombrellone divento un nuovo giocatore no secondo me al milan lui purtroppo non riuscirà a imporsi quindi l'Atalanta potrebbe essere un'idea magari si può ragionare con uno scambio di prestiti però in questo momento l'Atalanta è il club più interessato a De Chetelare dopodiché voltiamo pagina milan che deve rifare il centrocampo deve fare tante operazioni lo sapete e a me il centrocampo preoccupa perché vorrei lo scriverò anche nel mio editoriali domani su milan news vorrei una certezza c'è un giocatore forte che conosca già il campionato italiano che non si deve ambientare e che dice questo è un punto esclamativo non è questo il caso del giocatore che vi sto per raccontare ma è un giocatore secondo me più pronto rispetto a Musa più forte che ha già un'esperienza superiore e che mi intriga anche parecchio un giocatore che piace molto al Milan il Milan ieri ha alzato il telefono e ha chiamato il Bayern Monaco per Raja Gravenberg 21 anni infatti lo scorso mese un mese e mezzo fa olandese alto 1,90 un colosso del centrocampo Bayern Monaco scadenza 2027 quest'anno ha giocato un po' poco 559 minuti in Bundes 250 minuti in Champions ha giocato poco è chiaro che al Bayern Monaco c'è tanta concorrenza lui si è lamentato anche a mezzo stampa dicendo voglio giocare o con continuità al Bayern Monaco oppure altrove quindi vuole proseguire il proprio percorso di crescita senza intoppi senza bruciare delle stagioni lo scorso anno lui nelle divise con l'Ajax aveva fatto due gole e cinque assist l'anno prima tra gole e cinque assist giocatore che qualcuno paragona a Pogba può avere caratteristiche simili soprattutto la fisicità giocatore che è bravo a coprire ampie zone di campo è perfetto in un centrocampo a due ed ha anche gli serimenti in zona offensiva dove può migliorare a livello di quota goal giocatore che dà delle vibes delle sensazioni delle vibrazioni molto positive il Bayern Monaco ieri è sembrato piuttosto tiepido sulla possibilità di cederlo quest'estate però è chiaro che il giocatore potrebbe anche forzare e soprattutto il Bayern Monaco magari vedersi costretto a farlo partire diciamo che c'è stato un primo sondaggio esplorativo del Milan per un giocatore che a me piace tanto piace molto anche al Milan e dovesse arrivare con l'off su Schick avremo un centrocampo solidissimo con una fisicità pazzesca perché abbiamo due giocatori di 1,90 e 1,91 con anche una buonissima tecnica vediamo vediamo perché il Milan ha messo gli occhi davvero seriamente su questo giocatore e chissà che non si possa aprire magari un dialogo una trattativa con il Bayern Monaco soprattutto in questi casi determinante la volontà del giocatore che se si mette di traverso e vuole giocare non non è conveniente appunto confermarlo vediamo cosa succede ripeto indiscrezione che mi mi dà ottime speranze io una cosa la dico faremo tante cose mi aspetto anche qualcosa di un livello superiore cioè non solo i giocatori tipo Renders con massimo rispetto Musa che potrebbero diventare fortissimi ma sui quali ci sono anche dei punti di domanda anche giocatori un po' più forti dicevamo in video precedente frattesi c'era un incontro la settimana prossima ho una speranza sempre per Milinkovic nel mercato è giusto sognare e so che comunque è la fissazione di Stefano Pioli per questo ho qualche speranza in più seppur non siano tantissime Gravenberg lo avvicino molto a queste categorie di giocatori diciamo che non conosce l'Italia non conosce il campo l'Italia ma è uno forte 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 nonostante le difficoltà di inserimento al Bayern Monaco vediamo che cosa succede ditemi di De Ketelari ditemi di Gravenberg ditemi un po' di tutta la situazione che si sta creando e ripeto guardatevi se vi va qualche video di Pulisic con Giroud visti con la mano il Milan anche qui potremmo magari divertirci se Pulisic sta bene visto che spesso è fermo ai box purtroppo commentate numerosi iscrivetevi da questa parte arriviamo oggi stesso a 94.000 iscritti chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano o se preferite la terza o la quarta vedete voi mettetevi davanti magari il Brera e il Monza mi raccomando vediamo quanti milanisti ci sono è gratuito vi aspettiamo lasciate anche un bel like se vi va scaricate l'hab di OneFootball qui sotto c'è il link ciao ragazzi il video precedente in cui vi parlo di frattesi ma non solo alt 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 sono tornato ragazzi perché c'è una curiosità che è diventata ufficiale Rafa Leao avrà la maglia numero 10 adesso è ufficiale ne avevamo già parlato adesso c'è proprio l'ufficialità comunicata anche dal Milan e dovrebbe avere la scritta Rafa Leao non più solo Leao ma Rafa Leao con la 10 così appunto sarà nel prossimo anno un saluto mi raccomando iscrivetevi ciao ciao